Con vita lezione bella, le bella, ma quale Nelson Mandela, Mandela A caso il poster di Craxi, sto come Uber per i taxi C'è chi va tutti i giorni al lavoro, c'è chi invece ci va un giorno solo E perfino quel giorno che è andato, guarda caso non ha lavorato Alla Camera si è scoccolato, come fanno al Senato E la vita, la vita, col Vitalizio è bella, è bella, e compi la barca a vela E Vitalizio è bello, è bello, per i cittadini italiani Ma che vengono a rete, c'è chi subito a votare Che non è per necchio, faccio un tiro E la vita, la vita, la vita Buonasera ragazzi, buonasera Avvizzandà Abbiamo vinto la causa degli ex parlamentari Cicciolini stiamo a fare festa grande stasera Avvapialterraes perché ha Vitalizio Non c'è un pottone, è un diritto acquisito Guarda, ma se stai a scherzare qua un po' Poggiate lo lavate là sotto Che i cristiani che dice che non arrivano a fin di nuovo Giustamente hanno chiamato un grande avvocato Un certo Perez, Perez, Perez E ancora avviene là E vuoi Di Maio, Crimi, Crist, Renzi A fare la dichiaria De Nenz, De Nenz Faccio una vede che faremo ricorso E dalla tavena ha uscito a brindare stasera Cicciolini ha fatto la festa stasera Ragazzi, ha invitato Silvio Berlusconi Salvini, Di Maio, Bersani, Renzi Odini ha detto che è giusto Odini, 89 anni, ex parlamentari Bertinotti, altri comunisti Puri da festeggiare E vuole la ritratta E vuole la ritratta Perché la tocca a tutti E va, stai a spettare questa degrazione E vabbè buona notte per me Cazzo, quante merda, Cristian Continuate ad andare a votare De, sinist Sopso, chiacchiere Chiacchiere Fanno i cazzi loro Il covid Virus Tot, Barzellè Tantio, Vecca All'inizio di marzo Quando è successo Infermiere, dottore Erano eroi Ora sono dei coglioni Ma io non stupendo Vole pagare, Cristian state aspettando ancora la casa di grazioni belli? aspettate! partita IVA cominciamo con la cristiana tutto a posto? aspettate! c'è questa bulla? l'estate? la comune? chi stanno a posto? o i vitali? o i vitali? non si fai nulla, perchè per loro è come i vitali per loro, è perchè un diritto acquisito eh guaglione, non ti fanno che vergogna gli italiani hanno chiuscito a votare la prossima volta che svela che hai fatto pure la cresta un po' a sinistra un po' a destra e la vita, la vita colpita all'izione strana e strana tagli le cure all'anziana all'anziana e l'anziana per loro diritto acquisito c'è chi la sua pensione matura resistendo una legislatura c'è chi fa dopo aver occupato il bottino dice in radio e in televisione prenderemo di convenzione ciao ma niente allora e ora che prima di tornare tu? l'italiano siete una massa di pecoroni e continueremo a fare i pecoroni chi vuole creare se vuole più a questo e vuole fare un aumento di bonus buono a marcarciare il commercialista al sindacato al CAF ma non lo so 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 sono sempre quelle zero allora il problema è che non lo so non lo so perché quello è un altro schiaffo agli italiani al CAF la partita al pensione ma la pensione non è tutto c'è dal 14 chi prende meno di mila euro tutto ci tutto allegro cristiano e vai vabbè ragazzi vi auguro un buon sabato sera domani domenica dovrebbe essere una bella giornata se vado al mare vi faccio vedere il mare di Molfetta non ricchiacchiere il mare di Molfetta si capite? corato il mare di Molfetta quindi dopodiché come al solito saluti tutti gli amici i clienti del Pausa Caffè tutti tutti i capelli quelli che stanno al nord saluti alla Svizzera alla Germania all'Austria a tutti isole comprese sapete che vuoi bene abbracciati fino a questo cacchi se vuoi non è chiudono 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 vabbè ragazzi domani se succede qualche altra cosa vi dico un'altra cosa ok non fatevi sentire dei muschi da VITALIZIO poveri Italia come queste marionette c'è c'è chi non ha mai talizi paga tasse ma non ha servizi e poi che ha pagato tasse? settembre arriva un mondo nonna è una cosa buona e la mondezza si accumula a Roma così ruba il gatto il filetto dentro quel cassonetto della vita la vita colpitazione della vabbè ragazzi arrivederci buona serata con un po' il drogo e di Nepparrozzo arrivederci vuoi che bene ciao molti saluti via Cappellini la famosa via Cappellini Grazie a tutti.